bella a tutti ragazzi prima di andare a vedere il video voglio ricordarvi il mio codice creator xyuderone grazie mille per il vostro supporto attenzione ogni 14 giorni scade quindi non dimenticatevi di controllare se ce l'avete e ovviamente mandatemi una storia su instagram uno screen quello che volete io vi reposterò ma adesso video dedicata ad e festo molly eccola eccola io sono una vera principessa ok e ho il termos delle vere principesse forse stai attento lo prendi nel q andiamo erroraccio asciutto potenziare instant proprio ho detto che è dedicata ad e festo questa partita sono stato intenzionato usare le splash ho una rapidissima occhiata per capire se non c'è nulla mi faccio lo scarto andiamo ci gente ammoli da killare forza let's go let's go we can stop we can stop E io vi distrutto Vi distruggo Dov'è il medikit che stavo cercando? Viene un alter Ho incrociato le dita che non fosse ganasciato quel pick up Prima di curarmi devo essere sicuro di avere un veicolo disponibile Bella la giocata Con calma con calma con calma Non male non male non male Easy Uno Pesce scudo Easy Bam All right Full scudato Non so se sia ancora qua il bottazzo Allora i tizi Non mi stanno inseguendo Stranamente Meglio per me La fuoco è andata bene Avrei potuto prendere il cecchino Andiamo ragazzi Let's go Let's go 43 giocatori dentro Solo vi duo 11 minuti prima di chiudere tutto Ne siamo usciti molto bene Ne siamo usciti Non siamo dentro per poco Ma non è un problema È una bella posizione questa per sistemare i maz Ora ci concentriamo Ci concentriamo un attimino Su quello che potrebbe capitare a lago Va bene dai 1200-1300 di maz Sono sufficienti Sosti Dio santo Perché? Prendo loot del tipo Dio santo Eh gli shieldini raga Gli shieldini Io ce l'ho messa tutta ragazzi Sono belle queste 6 kill Quindi così non potevo fare raga Ho distrutto tutti Ho distrutto minchia Partito è dedicato ad Efesto Tra l'altro Non voglio tirare giù gli alberi Dentro in 10 Quanti team? 6 team Non è una buona idea Non è una buona notizia Bello questo shieldone Che mi stava aspettando C'è scritto sopra xyuder Mi sa che anche in quel pesce C'è scritto sopra xyuder Ci copriamo Ci copriamo Ci copriamo Qua che gran figata LOL C'è un tizio là? Non solo Non solo Ok Distrutto anche questo raga E non ho panicato Ho aspettato un secondo Prima di sparare il secondo colpo Ancora un po' di legna E poi ce ne andiamo Sinceramente vorrei pushare Ma dall'altra parte Vorrei anche chiudere Questa partita vincendo 7 kill in solo V2 Non è che le faccio proprio spesso È morta gente là? Secondo mese Dai il secondo mese Viva la banana del sire Non faccia non dica Per cortesia Andiamo Dentro in 5 3 team Uno vi do vi uno Un po' di legna non 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 vai no peccato peccato che dovevo cambiare box più velocemente che bella partita ragazzi che bella partita lì era brutta distrutto ragazzi distrutto distrutto se mi fosse venuta meglio questa partita sarebbe stata una gran figata ce l'ho messa veramente tutta ce l'ho messa veramente tutta ragazzi